Penso di non aver mai fatto un video interamente dedicato al segno dello zodiaco dei pesci e credo che questo momento sia quello giusto per farlo. Perché? Perché sta passando un periodo che non è propriamente dei migliori, ma non voglio subito parlare di cose negative. Partiamo dal principio. Segno dei pesci, segno d'acqua, ovviamente, quindi i pesci fortunatamente ancora anche nello zodiaco vivono nell'oceano. Segno doppio, per cui bisogna dire che è una personalità difficile e abbastanza complessa, soprattutto per le persone che non sono dei segni d'acqua, perché arrivano ovviamente dopo a capire le sue emozioni, ma poi sono anche difficili da prevedere, sono delle mosse difficili quelle dei pesci. Partiamo da degli aspetti del suo carattere che io caratterizzo come i migliori probabilmente, nel senso che sono delle caratteristiche che vengono chiamate pregi. E diciamo che, in prima battuta, è ultra generoso il pesci. Generoso vuol dire proprio che è in grado di mettersi al secondo piano per tutti. Per tutti intendo non soltanto le persone a cui vuole bene, ma anche per gli sconosciuti. Cioè, è un indole quella del segno dei pesci di voler aiutare il prossimo, ma senza un ritorno da parte sua. Non lo fa né per il karma, né per l'universo, né per avere qualcosa in cambio. Lo fa per una necessità. Sembra strano perché nel 2023 le persone sappiamo che fanno le cose per opportunismo, e il pesci, al contrario, non è così. Poi è ovvio che vanno contestualizzate le situazioni, perché se il pesci lo porti ad un limite, dal punto di vista proprio della sopportazione, perché purtroppo certe persone sfruttano questo suo lato, e quindi lui si accorge di essere fondamentalmente sfruttato come una mela fino a quando non viene succhiata tutta la polpa, a quel punto il pesci sì che potrebbe vendicarsi in malo modo, ma la vendetta è comunque un qualcosa che sei andato a ricercarti, sei andato a stuzzicare il pesci con molta, molta dedizione, e ce ne vuole, credetemi. Poi, è chiaro, la generosità è direttamente correlata ad un'altra grande caratteristica, che è la iper sensibilità. Questo è un aspetto che potrei scindere in due parti, perché è un aspetto positivo se si tratta di percepire le emozioni altrui e anche le proprie, per cui il pesci è empatico, è una persona che è in grado di sentire il dolore degli altri, quindi a immedesimarsi nelle anime altrui è una cosa che lui riesce a fare bene, quindi anche a consigliare, ad essere di supporto. Ma è altresì questo un aspetto negativo, perché essere ipersensibili che cosa comporta? Avere un'autostima relativamente bassa, non essere troppo carismatici, e poi soprattutto, purtroppo, fare il vittimismo. Il vittimismo è una pratica che viene, diciamo, fuori, soprattutto in un rapporto di coppia, o praticamente anche quando si è in giro con amici e quant'altro, dove si tende a fare quello che è sempre trattato male, a quello che non viene mai considerato, a quello che non si sente compreso. Il pesce è incompreso. Per fortuna, però, nel mondo non ci sono solo le persone che lo incriminano per il suo vittimismo, ma ci sono anche quelli che lo comprendono. Ed infatti la compatibilità del segno dei pesci è principalmente con persone vicine molto a lui dal punto di vista caratteriale, quindi altri segni d'acqua. In prima battuta, lo scorpione è quello che con il pesci letteralmente potrebbe avere una coppia che dura oltre 100 anni. E io infatti conosco molte coppie, anche datate, che stanno insieme da oltre 50 anni, che sono dei segni scorpione più pesci. Ma c'è anche il cancro. E devo dire anche che il capricorno dona la giusta stabilità al segno dei pesci, per il fatto che sono opposti. E questo chiaramente li rende delle persone che si completano, come in matematica gli angoli complementari. Lo dico sempre. Di fatto c'è che il pesci ha una cosa che è probabilmente la cosa che lo rende unico all'interno dello zodiaco, che è la fantasia. E uno dice, ma le segni d'aria hanno la fantasia spiccata, riescono a fare dei pensieri ultraterreni, sono appunto segni d'aria. No, il pesce ha una fantasia che non è legata alla creatività, come potrebbero avere le segni d'aria. La fantasia del segno dei pesci è un qualcosa che rende magico il suo mondo. E per l'appunto non si tratta di creare qualcosa, ma si tratta di... perché appunto un artista crea. Che ne so, uno scultore si mette a scolpire una statua dal nulla, senza avere neanche un modello da seguire, e lì si è avuto una creatività fantastica. Il segno dei pesci invece non è una creatività fantastica, è proprio lui che è solo fantastico. È quello che potrebbe addirittura pensare, come Albert Einstein fece, a come è possibile che noi siamo nati dal Big Bang, da dove deriva l'essere umano. Il pesce è quella persona che non se ne sta dei dati di fatto, è quella persona che quando c'è un qualcosa da sapere, si fa più domande del normale. Se tu vedi quando vai fuori che piove, ti domandi perché non ho portato l'ombrello. Il pesce si domanda, ma da dove deriva la pioggia? Come posso far smettere di piovere? Ovvio che non può riuscire a farcela. Però questo è il modo con cui lui pensa. Il suo cervello è molto attivo sotto questo aspetto, e di fatti a livello proprio accademico, non è una cima, non ha mai preso dei grandi voti a scuola, nemmeno all'università, ma è sempre stato forse uno degli alunni preferiti dei professori, per il come lui interagiva durante le lezioni. Le sue domande sono sempre state domande talvolta anche abbastanza imbarazzanti, perché mettono in discussione degli aspetti che non sono facili da comprendere dal punto di vista umano, però poi vengono considerati intelligenti, e il pesce è intelligente. Ripeto, Albert Einstein deriva in gran parte dal pesce, essendo lui dei pesci, seppur il suo tema natale è costellato di segni di terra. Ma bisogna dire che senza l'acume mentale del pesce, Einstein non avrebbe sicuramente avuto modo di creare quello che ha creato dal punto di vista scientifico, ovvero farsi delle domande che vanno a mettere in discussione le leggi della natura. Il segno dei pesci è probabilmente dal punto di vista zodiacale anche colui che si porta sulle spalle tutti i segni. Come ben sapete, al dodicesimo posto è sempre messo questo segno quando si fa l'oroscopo settimanale o l'oroscopo mensile, perché si segue l'ordine cronologico dal punto di vista dei gradi della circonferenza zodiacale, arrivando fino agli ultimi 30 gradi, quindi dal grado 330 al grado 360, andando a parlare appunto del povero pesci che si trova sempre in fondo. E quindi uno dice, ma mi sento sempre in fondo, mi sento escluso. Eh no. Avete presente la prova di evacuazione? Si faceva a scuola, ma si fa tuttora anche nelle postazioni di lavoro, se capita. Prova di evacuazione prevedeva che si mettessero tutti in fila, ci fosse un apri fila e un chiudi fila. Qual era il ruolo più importante di quest'ultima? Il chiudi fila. Perché aveva il compito di controllare che non ci fosse più nulla e nessuno di importante, che ne so, di acceso, le finestre aperte dentro la stanza o comunque la struttura che si stava lasciando, e deve dare la certezza matematica che siamo tutti pronti per partire e andare fuori. Il pesci ha lo stesso compito. Una volta che termina, diciamo, la circonferenza astrologica, il pesci la fa ricominciare. Quindi è colui che chiude, ma è anche colui che inizia. E chi inizia qualcosa ha la responsabilità di permettere, fondamentalmente, a chi davvero apre poi le porte, che sarà la riete, di farlo con serenità. Ed è il pesce che sancisce quando finisce tutto con serenità. Per cui, a tutti i pesci che mi guardano, sappiate che da parte mia di Alessio Ballarini provate un senso di amicizia naturale. Per cui io sono molto vicino a questo segno, naturalmente, lo capisco. Riesco a fare delle battute senza neppure spiegarle, anche molto fredde, delle freddure. Avete capito? Quelle che non c'è bisogno nemmeno di andare a spiegare il perché la si è fatta. C'è proprio una intesa di sguardi. Perché sono del cancro. Ma voglio anche dire al pesci che la sua autostima, seppur non è estremamente alta, non è neanche così tanto necessaria come potrebbe esserlo per altri segni. Perché tu piaci per come sei. Se tu fossi una persona più presuntuosa e altezzosa, molto molto probabilmente perderesti la magia che ti circonda. Per cui, si fiero di come sei, vanni orgoglioso e punta su questo. Fatti valere su questo. Hai delle passioni che probabilmente ti portano a risultare un pochino più fantasioso degli altri. Per esempio, ti piaceranno i fumetti, ti piaceranno i cartoni animati, quindi se sarai un genitore e sei del segno dei pesci, ti piacerà guardare i cartoni con tuo figlio perché ti fanno tornare bambino. Ti piacerà andare a Gardaland? Sono delle cose che, è vero, possono piacere a tante persone, ma ai pesci maggiormente. E questo, secondo me, è un quadretto perfetto per tutte quelle persone che hanno voglia di avere al proprio fianco un'anima buona, pura, ma soprattutto un'anima che rimarrà per sempre un fanciullino, come direbbe Pascoli. Quindi una persona che ha sempre voglia di divertirsi, nonostante le avversità che la vita gli pone davanti. Ci tengo però a sottolineare che il pesci non deve assolutamente essere preso in giro. E pertanto, se ha bisogno del vostro aiuto, ha bisogno di aprirsi, spero per voi che possiate ascoltarlo in modo serio e di non farvi entrare di qua le cose che dice e farvele uscire di qua, perché ci rimane molto male e soprattutto potrebbe chiudere il cuore nei vostri confronti. Detto ciò, spero che vi sia piaciuto questo video. Piccola presentazione, piccola ma esaustiva immagino, del segno dei pesci. Se sei di questo segno fammelo sapere, mi fa piacere sapere quanti lo hanno visto e siete dei pesci, ma anche se non lo siete, ditemi se ne conoscete qualcuno e se vi ritornano un po' alla mente delle attitudini di questo genere. Con questo vi saluto e vi auguro a tutti una buon prosieguo di giornata o di serata. Ciao!